Oggi abbiamo tecnologie di produzione e di gestione dell'energia sempre più sofisticate. Ciononostante gran parte dell'energia che spende un edificio nel momento della sua costruzione, è quello che gli inglesi chiamano embedded energy. Quindi rischiamo di fare edifici molto tecnologici ma che durano poco. Io credo che la durabilità, quella che aveva anche la città antica, sia un elemento fondamentale della sostenibilità. Far durare un edificio tanto, costruirlo bene, spalma la sua energia nel tempo e permette anche l'avvicendarsi di tecnologie che cambiano ogni 10-15 anni.